Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpala, ancora alta pressione anche sulla Liguria, anche se domani mercoledì il transito di un'onda depressionaria favorirà l'aumento dell'instabilità con possibili rovesci temporali nell'interno e in locale sconfinamento sulle zone costiere. Il dettaglio, oggi martedì 5 luglio, sereno su tutta la regione, possibili isolati temporali di calore sui rilievi alpini e appenninici nelle ore centrali, venti deboli meridionali in rotazione da settentrione a ponente la sera, mare poco mosso, temperature massime stazionario in lieve diminuzione lungo la costa tra 28 e 32 gradi nelle zone interne tra 30 e 33 gradi. Domani mercoledì 6 luglio temporanea stabilità in transito sulla regione con rovesci o temporali associati più probabili sui rilievi ma impossibile sconfinamento sulle zone costiere, miglioramento da serata con schiarite anche ampie, venti settentrionali tra deboli e moderati, rinforzi sul centro ponente, mare in temporanea aumento fino a mosso, temperature in aumento, minime lungo la costa tra 22 e 24 gradi nelle zone interne tra 16 e 19 gradi, massime lungo la costa tra 30 e 33 gradi nelle zone interne tra 28 e 33 gradi. Dopodomani giovedì 7 luglio in prevalenza soleggiato, instabilità nelle ore centrali con possibili isolati rovesci o temporali, in particolare sui rilievi e zone interne, sereno poco nuvoloso la sera, venti in prevalenza deboli settentrionali in rinforzo da sera, mare poco mosso quasi calmo, temperature stazionario in lieve aumento, minime lungo la costa intorno 23 e 24 gradi nelle zone interne tra 15 e 19 gradi, massime lungo la costa tra 30 e 33 gradi nelle zone interne tra 28 e 33 gradi. È tutto, seguite gli aggiornamenti su arpal.liguria.it, sulla pagina facebook di Arpal, sul profilo Instagram dell'agenzia e ricordate di scaricare l'app Meteo 3R disponibile su Google Play e Apple Store. A risentirci!